Iniziamo la quaresima chiedendoci io scelgo il Signore o gli altri dei che possono darci solo piccole cosine che passano? E confidiamo nel Signore che è con noi anche nel momento della scelta. È stato l'invito di Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, nella quale ha commentato il passo della Bibbia in cui Dio chiede a Mosè di scegliere tra il bene e il male. Oggi la Chiesa ci dice fermati e scegli e noi domandiamoci com'è il mio stile di vita, per quali strade cammino? Una strada sbagliata è quella di cercare sempre il proprio successo, i propri beni, senza pensare al Signore, senza pensare alla famiglia. Queste due domande, come è il mio rapporto con Dio, come è il mio rapporto con la famiglia. E uno può guadagnare tutto, ma alla fine diventare un fallito, ha fallito. Quella vita è un fallimento. Ma no, hanno fatto un monumento, hanno dipinto un quadro, ma hai fallito. Non hai saputo scegliere bene tra la vita e la morte. Beato all'uomo che confida nel Signore. Quando il Signore ci dà questo consiglio, fermati, scegli oggi, scegli. Non ci lascia soli, è con noi. E vuole aiutarci. Soltanto noi dobbiamo confidere, avere fiducia in Lui. Soltanto noi dobbiamo acquistare. Soltanto noi dobbiamo fac Hughes. Grazie a tutti.